Signori, 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 la situazione è critica, in questi giorni mi sto sentendo anche con altri miei colleghi youtuber e tutti stiamo riscontrando lo stesso problema YouTube fa sparire iscrizioni, visualizzazioni, proprio spariscono delle cose e molti di voi me lo fanno anche notare, non mi arriva la notifica, ferre, c'è questa cosa che non va YouTube in questi giorni starà sperimentando, non si sa, però dai ciocchi Quindi ragazzi l'unica cosa che potete fare è vabbè attivare la campanella di notifiche per appunto ricevere le notifiche Ma mettere un pollicione in su ai video ragazzi, è un piccolo sforzo ma se lo fate sotto tutti i video, se riuscite tutti i giorni a sostenere il lavoro che facciamo per voi è un aiuto enorme Ma detto questo vi lascio al video Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Dual Maxing, la serie in cui maxiamo due municipi contemporaneamente E oggi vi porto una nuova truppa maxata, come potete vedere dal titolo, la Valkyria Che a dire il vero vi porto proprio al pelo, perché in questi giorni dovrebbe uscire l'aggiornamento di Clash of Clans e ci sarà la Valkyria di livello 6 Quindi questa Valkyria di livello 5, che per adesso è ancora per fortuna a livello massimo Non sarebbe mai arrivata sul canale se non fosse stato per il video che abbiamo fatto al Games Week Penso che l'avrete visto quasi tutti, se così non fosse lo trovate come trail del canale e vi lascerò anche la scheda penso qua sopra E sempre nello stesso video, perché se lo fosse perso abbiamo piazzato i draghi maxati Quindi anche questi tra 5 giorni, anzi più 6 giorni, dire la verità, arriveranno E arriverà anche il P.E.K.K.A. Non mi sono scordato del P.E.K.K.A ragazzi, tranquilli Prima o poi ve lo porterò, perché il P.E.K.K.A è una truppa che per chi non lo sapesse abbiamo maxato E non ci ho ancora fatto un video Che poi voglio dire, il P.E.K.K.A di livello 6 deve essere una cosa fenomenale Però non ho ancora potuto provare questa truppa, perché a leggenda si usa 0, 0 Ah, io lo dico, eh, mi sembra inutile specificare queste cose, però io lo dico Quando esce l'aggiornamento, io non vi chiederò neanche che truppa volete vedere, ragazzi Metterò a potenziare il golem, perché sto golem di livello 7, io non è che lo voglio provare Lo devo avere, lo devo avere, ragazzi Quindi 200 K di nero pronti, quando arriva sto cavolo di golem, lo spariamo subito Per quanto riguarda le coppe, invece, ero in record, mi hanno attaccato puntualmente prima di registrare, due orette fa E mi hanno fatto un meno 6, quindi ora iniziamo ad attaccare noi Vediamo un pochettino cosa ci capita Se facciamo più di 6 coppe, parliamo di record poi dopo Ok, allora, è uscito questo tizio Non gli mancano assolutamente le risorse Le coppe, purtroppo, sono poche, ragazzi Ma io in questi giorni, per prepararmi all'aggiornamento, devo farmare oro come una bestia Quindi direi di attaccarlo Allora, partiamo da qua sotto Con una bella regina, tranquilla, tranquilla Ci buttiamo i suoi 4 guaritori Che gli danno sempre una bella mano E andiamo Di qui, in questa maniera 2, 4, 6 bocciatori 2 guaritrici Qua partiamo con un golem, ci buttiamo dietro 3 maghette, andiamo con 2 spaccamuro 2 spaccamuro, 2 spaccamuro 2 spaccamuro, bocciatori dietro Reali a manetta E andiamo qua con le terremoto In questa maniera Ok Ok, andiamo con la prima furia Ok, le truppe stanno facendo un giro stranissimo Ehi, no, 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 rientrate Truppe Ok, andiamo con l'abilità Andiamo con la furia di qui Dai, ti prego Perché qui ragazzi Le truppe hanno fatto il giro Le truppe hanno fatto il giro Aiuto Rischiamo un pochettino Ma Arriviamo dal municipio Arriviamo dal municipio Ma le truppe che giri fanno? Che giri fanno le truppe ragazzi? Tornali indietro Ma non ci posso credere Il municipio è lì Dove spari? Dove stai sparando? Imbecille Il municipio è lassù Non ci posso credere Cosa abbiamo nel castello? Niente Il castello ci serve per dopo E quindi ragazzi qua La vedo veramente dura Gran sorvegliante Aiutaci tu No, no, ma tanto la regina Ho già capito Che lei va per i cavoli suoi ragazzi La regina va per i cavoli suoi Ci butto la furia L'aiuto con la sua abilità Ma niente da fare Mi fa una percentuale esagerata Ma non mi piglia Non mi piglia il municipio Mi fa tutto il giro del mondo Ma non mi piglia il municipio E vabbè Dai, perlomeno vai a prendere Quel deposito Brava E lì ce l'hai davanti al naso Vai a prendere quel deposito di oro Che mi serve direi Parecchio Vai Ma cosa prendi il deposito nero? Ma dove spari? Il deposito nero non mi serve Non ci posso credere Regina maleducata Spara quel deposito Oh, alleluia Dai Non me l'ha manco preso tutto Ma va bene Va bene, dai, va bene Vediamo un pochettino 340.000 Che va bene Vabbè Più il bonus e le solite cose Però Non mi è piaciuto molto sta cosa Che le truppe hanno fatto tutte quante Il giro lì Erano belle e comode Andare dritte No, hanno dovuto girare Vabbè Trano perché in effetti I boccatori girano Molto poco Non sono come appunto i pecca Che dicevo prima Non li usa nessuno Loro i pecca Devono girare 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 Invece i boccatori Bene o male Vanno quasi sempre dritti E ad ogni modo Per il prossimo attacco Ho preparato Quattro valchirie Da utilizzare Nella fase Post Attacco Quindi dopo tutto quello che avete visto Proveremo a inserire altre quattro valchirie E vedere se riescono Andare Loro A distruggere il municipio E Utilizzeremo anche Quattro boccatori Che ci hanno donato Per compensare un pochettino Perché logicamente Per usare le valchirie Ho dovuto togliere i bocciatori E nulla Adesso aspettiamo i reali Quindi ci vediamo tra poco Ok signori Rieccoci qua Non è passata proprio un'oretta Diciamo un po' di più Tipo tutto il pomeriggio Però ho messo in ordine la camera Sì Ma io direi di non perderci In chiacchiere E partire a schippare Con la nostra panina del farming Alla mano Signori Ok ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Questo qui è il tizio Che voglio attaccare 23 coppie Ci può dare Non è facile È una leggenda come noi E sembra abbastanza cazzuto Io partirei di qua Con la regina Due Quattro guaritori dietro Ok Poi andiamo di qua Con due Quattro Sei bocciatori E due guaritrici dietro Partiamo lontani dal municipio Perché qua ragazzi Ci può fregare Sto tizio Ve lo dico Ci può fregare Di brutto E quindi noi Non dobbiamo farci fregare Andiamo con i bocciatori Andiamo con Le truppe Del Il suo castello Che arrivano Ok E andiamo qua Con le terremoto Ok Andiamo 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 Con i bocciatori Che mi hanno donato Da dietro Prima furia Ok Aspettiamo ancora un attimo E abilità Ok Del gran sorvegliante Abilità del re barbaro Di nuovo Andiamo con un'altra furia Ok Arriviamo al municipio Andiamo adesso Con le valchirie Ok Dove vanno le valchirie Vanno per i cavoli loro Perfetto Grandissime le valchirie Ah magari ci faranno Un po' di percentuale Dai che magari Ci fanno un po' di percentuale Abbiamo ancora l'assalto Che voglio utilizzare Con queste belle signorine Allora Arriviamo A tirar giù La capanna Buttiamo qua l'assalto Ok Così entrano subito Ok Tanto le nostre due stelle Le abbiamo fatte Le tre non ci provavo neanche E E Facciamo un 70% Ci arriviamo al 70 Perfetto ragazzi Bottino pieno Meglio di così Non si può pretendere niente Vediamo ancora un pochettino Che cosa succede Però penso che non ci sia Proprio neanche il tempo materiale Per fare dei danni Più consistenti di così La regina nel frattempo muore Quindi senza regina Le tre stelle Non si faranno mai 80% Comunque 81 Percentuale veramente Molto molto buona E le coppe qua Ci saranno Ci saranno un bel po' di coppe Per sto tizio E quindi faremo di nuovo In live Il record Dell'account Ragazzi Ok mancano 10 secondi È rimasto solamente più Il gran sorvegliante Quindi Vediamo un pochettino Che cosa succede Allora il gran sorvegliante Ce lo fa ancora Un 84% O no Chiude con un 83 Che comunque ripeto È un'ottima percentuale Inutile che ve lo dico E 350.000 di oro Quindi il bottino è ottimo Ma soprattutto 15 coppe Quindi Risorse Percentuale Coppe C'è tutto ragazzi C'è tutto In questo attacco Ottimo Le valkyrie non sono state Poi così tanto utili Però Va bene Va bene Mettiamo ad addestrare Due eserciti E vi faccio vedere Siamo quasi sulle 5.100 coppe Ragazzi 5.093 Molto Molto bene Devo dire Che sto Facendo Un bel po' di coppe Non pensavo Che la Lega leggendaria Sarebbe stata Così Passatemi il termine Facile Perché poi non è proprio così facile Come vedete Dai villaggi che ci capitano Però Ci sta Un'ultimissima cosa Prima di salutarci ragazzi Interromperò momentaneamente L'upgrade dei cannoni Quindi Quello che abbiamo piazzato Per adesso Sarà l'unico Lo riprenderò Semplicemente Poi più avanti Perché adesso Voglio dare priorità Uno Ai volanò E due Alle torri bombardieri Visto che sono nuove strutture Sono pronto a scommettere Che siete molto più interessati A vedere queste cose nuove Rispetto a cose Che già conoscete Che comunque sia Vanno fatte Perché bisogna maxare tutto Ok Però Ragazzi Voglio portarvi Queste nuove difese Con questo direi che Anche per oggi Siamo giunti al termine del video Come al solito Vi lascio con la nostra Carissima Outro Lasciandovi l'iconcina Per iscrivervi al canale E soprattutto Il video consigliato Detto questo ragazzi Noi ci vediamo domani alle 5 Un saluto da tutti E ciao